I 64 migranti della nave Alan Kurdi della ONG tedesca CIAI potranno sbarcare a Malta. I migranti rimasti 11 giorni in acqua internazionale in attesa di un porto saranno poi redistribuiti in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. Lo ha annunciato il governo di Malta. Il premier maltese ha ribadito che nessuno rimarrà a Malta perché non può prendersi questo carico da sola. La Commissione europea è grata che sia stata trovata una soluzione per i migranti dell'Alan Kurdi. Quanto avvenuto però, sottolinea una portavoce dell'esecutivo UE all'agenzia di stampa ANSA, mostra chiaramente una volta di più come l'UE non possa continuare a fare affidamento a queste soluzioni ad hoc, ma al contrario servono soluzioni sostenibili e prevedibili per assicurare che gli sbarchi di persone tratte in salvo possano avere luogo in modo sistematico e sicuro in futuro. Grazie.